Benvenuti a questo dibattito su istruzione e salute. Oggi vogliamo provare a parlare di scuola oltre la retorica. Una delle frasi più retoriche sentite fino ad oggi è che la scuola è un luogo sicuro, immune dai contagi. Tutto avviene sempre fuori, nei mezzi pubblici, negli assembramenti da movida, mai dentro. Come se la scuola fosse incastonata in una palla di vetro. Dentro funziona tutto perfettamente, protocolli, tracciamenti, screening, il contagio è legato sempre fuori. Ma le voci del mondo della scuola raccontano tutt'altro e anche i dati. Sapete bene che il Comitato Tecnico Scientifico, in vista della riapertura, ha parlato di un rischio contenuto e moderato dei contagi nelle scuole. Quindi l'invito è stato quello alle regioni, quello della presenza. E si sono aperte le scuole nel Lazio, Molise, Piemonte, Emilia-Romagna. Si apriranno poi il 25 gennaio e il primo febbraio anche nelle altre regioni. Ma questa scelta è stata basata su un'indagine epidemiologica accurata, una raccolta dei dati sull'incidenza della contagiosità nelle scuole. Nessun dato è stato mostrato a supporto di questa decisione. Il professor Cristiano Corsini, che è uno dei relatori di questo tavolo virtuale, ha definito questo dibattito sulla pandemia con tre A, antidemocratico, antiscientifico e antieducativo. Ne parleremo con diversi relatori. Il primo di tutti è Cristiano Corsini, che è pedagogista dell'Università di Roma 3. Poi abbiamo due esperti di raccolta anche dei dati sull'incidenza della contagiosità nelle scuole, che hanno mostrato anche dati allarmanti da questo punto di vista, che sono Davide Tosi, informatico esperto che lavora al Dipartimento di Scienze Teoriche Applicate dell'Università dell'Insubria e collabora con la Bocconi di Milano. Salve Tosi. E Alessandro Ferretti, ricercatore del Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino. Loro ci spiegheranno perché questo dibattito è antiscientifico, mentre antieducativo ce lo spiegheranno Fabio Bocci, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Formazione Università degli Studi di Roma 3, che coordina il corso di laurea Scienze della Formazione Primaria, e Valentina Grion, che è docente del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell'Università di Padova. Carla Guelli, invece, tutora organizzativa dell'Università di Roma 3, con un dottorato in pedagogia e didattica e in prospettiva interculturale, ci parlerà e ci racconterà le voci del mondo della scuola, insieme a Lorenzo Gasparini, genitore dell'Istituto Federico Caffè. E Carlo Cappa è pedagogista dell'Università Tor Vergata di Roma 3, che parlerà anche con noi dell'aspetto della didattica a distanza. Benvenuti a tutti, stavo aprendo il discorso dicendo ovviamente che il Comitato Tecnico Scientifico, lo sappiamo tutti, ha deciso, insomma, per la riapertura delle scuole, dicendo che c'è un contagio moderato, ma ci sono state anche delle proteste degli studenti davanti alle scuole, perché molti non comprendono ovviamente la razionalità di questa scelta. Come mai con un RT minore, in zona gialla, si rimaneva, si faceva la didattica a distanza, invece con un indice, un RT che sale, i contagi che salgono e in zona arancione si ritorna tra i banchi, tant'è che quei banchi sono stati disertati. È diventato, insomma, un assioma che la scuola, bisogna crederci che la scuola è un luogo sicuro. Ricordiamo tutti la nostra questione dei dati, la Zolina ad ottobre aveva diffuso dei dati sulla sicurezza della scuola parlando di incidenza, di contagiosità dello 0,02-0,04%, poi ci fu uno scoop di Wired che parla di 65.000 casi positivi all'interno delle scuole. Questo crea un conflitto anche tra la testata e la ministra Azzolina. Becchis, il direttore del Tempo, parla addirittura di occultamento dei dati. Ci sono ovviamente, abbiamo detto, due ricercatori, Davide Tosi e Alessandro Ferretti che hanno mostrato delle ricerche molto interessanti sulla incidenza della contagiosità delle scuole, sull'incidenza delle scuole sui contagi. Alessandro Ferretti soprattutto ha parlato, ha fatto una ricerca interessante in Piemonte dove ha dimostrato che il 200 o 300 per cento, il personale scusate, il personale scolastico si contagia due volte o tre volte in più rispetto alla media della popolazione generale e quattro volte in più anche nelle scuole medie nella scuola primaria e dell'infanzia, quelle scuole che vengono sempre escluse dalla chiusura o apertura. Questa ricerca è stata attenzionata anche da Roberto Battiston, che non è uno qualunque, è un fisico, ha presieduto l'Agenzia Spaziale Italiana e oggi, proprio oggi, infatti, ha parlato di un'incidenza della contagiosità a molto alta in una fascia sempre più bassa della popolazione. Anche ci sono studi a Bergamo che parlano di contagiosità maggiore tra i ragazzi dei 10 e 14 anni. Quindi qualcuno, come ha detto oggi Battiston su Luffington Post, qualcuno dovrebbe anche cercare di contenere questa bomba e non farla riscoppiare come è successo ad agosto. Stessa cosa il virologo Crisanti aveva fatto un appello di una curata indagine epidemiologica, tutto ciò è caduto nel vuoto.